Ci spostiamo nel Vallo di Diano, anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Buccino in strada per partecipare alla manifestazione pacifica globale Fridays for Future in difesa dell'ambiente e nata dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg. Vediamo il servizio a cura del nostro corrispondente Quintino Divona. Circa 182 piazze d'Italia per il Fridays for Future, la manifestazione pacifica globale in difesa dell'ambiente nata dalla singolare protesta della giovanissima svedese Greta Thunberg. Non solo nei grandi centri abitati, ma anche a Buccino, piccolo centro del Salernitano, tale problematica ecologica è fortemente sentita. Infatti nella mattinata di venerdì circa 20 studenti dell'Istituto Comprensivo, guidato dalla dirigente scolastica professoressa Rosangela Lardo, scendono per strada per far sentire la loro protesta in difesa del pianeta. Oggi è la giornata mondiale di protesta per sensibilizzare i leader mondiali alla salvaguardia del nostro pianeta e contro l'inquinamento climatico. Ancora una volta una protesta che parte dalla scuola, dagli studenti di tutte le scuole e università del mondo, sull'esempio di Greta Thunberg. Ancora una volta, dunque, è la scuola che attraverso la protesta dei giovani affronta uno dei problemi più urgenti da risolvere o quantomeno da arginare. E in tal modo si fa garante non solo del futuro delle giovani generazioni, ma del futuro dell'intero pianeta. Ad accompagnarli fin sotto la sede comunale, le professoresse Cristina Zobbel e Simona Rocco, dove hanno incontrato l'assessore alla pubblica istruzione Katia Trimarco. Io sono un'insegnante di lingue, quindi mi sono inserita ben volentieri in questo discorso di attivismo sociale, portando chiaramente il mio contributo d'inglese. Quindi i ragazzi hanno con me visto un po' con tante parole attinenti l'ambiente, abbiamo parlato di Greta Thunberg, abbiamo visto dei filmati insieme, quindi abbiamo capito che questa ragazzina da sola veramente ha smosso montagne ed è quello che io ho chiesto a loro di fare nel loro piccolo. Quindi una bella insetiva, sicuramente da ripetere, perché è bello così tutti insieme, insieme si fanno le grandi cose. Finalmente si sta muovendo qualcosa e finalmente parte dalle sedi giuste dai ragazzi, sono loro il nostro futuro. Spero che si avvieranno molti altri progetti, perché noi dobbiamo aiutare questi ragazzi, aiutare e invogliarli, perché sono loro il nostro futuro. Dunque un grazie a loro, un grazie a Greta che ha mobilitato il mondo intero e continuiamo così.